Nella vita non bisogna disperare mai perché nessuno può toglierci la dignità di essere figli di Dio. È uno dei passaggi della Catechesi dell'Udienza Generale che Papa Francesco ha dedicato al tema del Padre Misericordioso. La parabola racconta di un padre e due figli, uno che si allontana e l'altro che resta, due persone che vivono storie differenti, accomunate solo dall'adottare una logica estranea a Gesù. Il primo pensa di meritare un castigo a causa dei propri peccati, il secondo di dover ricevere una ricompensa per i suoi servizi. Una logica tuttavia sovvertita dall'amore del padre e la cui misericordia è traboccante e incondizionata. Il Pontefice ha pensato in modo particolare alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando strade pericolose, ai parroci e ai catechisti che a volte si domandano se il loro lavoro è stato vano, a quanti hanno compiuto scelte sbagliate e non riescono a guardare al futuro. In qualunque situazione della vita, precisato, non devo dimenticare di essere figlio di un padre che mi ama e attende il mio ritorno. È importante questo insegnamento di Gesù. La nostra condizione di figli di Dio è frutto dell'amore del cuore del padre. Non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni. E quindi nessuno può togliercela. Nessuno può togliercela. Neppure il diavolo. Nessuno può toglierci questa dignità. Prima dell'udienza generale, durante la quale sono stati chiesti anche dialogo e armonia per il Brasile, Papa Francesco ha incontrato il capo mondiale della comunità dei Bektashi Baba Edmond Brahimai. La confraternita islamica di derivazione sufi è stata fondata nel XIII secolo da Aji Bektash Veli in Anatolia e in Turchia, per poi diffondersi soprattutto in Albania.